Buonasera, sono Sandro Tovaglieri, colgo l'occasione per comunicarvi che tramite Pontina Calcio Show la Fidelity Card, che io ho avuto il piacere di farla, dove darà vantaggi a tutti i fan della redazione di Pontina Calcio Show. Cosa aspettate a farla anche voi? Un saluto. Allora, buonasera a tutti, sono Ivano Trotta, l'allenatore del Palocco e volevo dire a voi tutti di aderire anche voi alla Fidelity Card di Pontina Calcio Show. È una carta che vi darà molti vantaggi durante l'anno e è tutta fatta e ideata da questi amici di Pontina Calcio Show. Anch'io l'ho fatta, di conseguenza sbrigatevi che finiscono.